Estra, l'assemblea dei soci, con SIAG Prato, con Gas Arezzo e Intesa Siena, Viva Servizi Ancona, ha approvato il bilancio d'esercizio 2019. Il gruppo distribuirà agli azionisti un dividendo di 7 milioni di euro. Sono poco più di 800.000 i clienti del gruppo Estra, in aumento del 3,4%. I clienti per il gas metano sono più di 635.000, mentre sono quasi 165.000 i clienti per l'energia elettrica. Cambia sede e si rinnova lo store Estra di Poggi Bonsi, che nei nuovi locali di Via Trento, aperti per 29 ore settimanali, offre spazi più confortevoli, l'elimina code intelligente, il canale Estra TV e la ricarica per smartphone. Estra è una società smart, anche nel rapporto con i clienti, superano le 233.000 unità i clienti iscritti all'area web e app del gruppo, con 1.300.000 accessi nel 2019, in aumento del 22% sul 2018.